sport piceno game presenta il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi benvenuto alla nuova puntata passione calcio questa puntata è dedicata interamente alla scuola di calcio è un rendiconto delle prime quattro giornate di campionato ascoltando un parterre di ospiti interessante e a sequenza andiamo a ascoltare i giornalisti chiara poli valero rosa e alessandro mannocchi di in sequenza poi ascolteremo il presidente dell'ascoli calcio a 5 massimo cottilli e il il tifoso paolo mariucci sicuramente è una squadra che ancora deve trovare l'amalgama giusta perché il mister ha cambiato alcuni moduli dall'inizio del campionato è passato alla difesa a tre per forza di cose una difesa a quattro per infortuni vari però credo che sia una squadra in fase ancora di costruzione molti giocatori sono arrivati alla fine del mercato tra cui tremolata che è un grandissimo calciatore però deve ancora trovare la giusta condizione atletica e anche il diciamo la connessione con con i compagni di squadra credo che ci siano dei giovani interessanti tra cui augusto bando che proviene dal settore giovane dell'ascoli solo 18 anni però secondo me ha grande personalità e può crescere ancora ancora tanto se gli verranno date le opportunità giuste in questo campionato anche perché la serie c non è la serie b per cui ci sono tantissime squadre con con i giovani ci sono le squadre b come il minan futuro e credo che sia una squadra abbastanza attrezzata per le prime posizioni sicuramente in questo momento manca un costruttore di gioco quindi un buckel a centrocampo ecco forse sicuramente questo mi piace molto il portiere Livieri perché dà molta sicurezza una difesa che troppo spesso viene imbucata con i filtranti quindi da rivedere sicuramente la fase difensiva si attende il ritorno di 40 che è stato reintegrato nel gruppo dopo che in estate era tra i partenti in attacco corazza lo vedo molto isolato sicuramente il modulo forse un po lo penalizza poi quando a gennaio tornerà anche francesco forte l'attacco sarà forse uno dei migliori della categoria corazza è un ottimo giocatore ha raggiunto l'anno scorso la promozione col cesare insieme a varone e sicuramente è un giocatore di qualità su cui si può puntare però si deve essere riformito molto meglio ed è la prima giornata che sostengo questo e tirelli è interessante mi piace molto d'uffizia anche se sta trovando poco spazio marsura sta effettivamente dando delle delle buonissime prestazioni può può fare molto di più e vedremo insomma tremolata come dicevo è in fase di crescita quindi la squadra diciamo ripeto è in fase di costruzione sicuramente i risultati sono abbastanza buoni forse il pareggio con la spal nella prima partita ci ha un po penalizzato però la vittoria con la pianese e anche l'ultima gara hanno ridato sicuramente spirito entusiasmo alla città squadra e ai giocatori e mancano un po' i tifosi allo stadio i gruppi organizzati che si spera di rivedere presto credo che la rosa a disposizione di mister carrera sia di buona qualità una rosa composta da un buon mix di giovani e di calciatori esperti in particolare a centrocampo dove varone può certamente recitare un ruolo da protagonista e bene ha fatto il mister anche a dargli la fascia da capitano anche per far fare esperienza al giovane bando che sicuramente sarà uno dei protagonisti una rosa dove forse manca qualcosa lì in mezzo proprio nel caso in cui nel lungo campionato dovesse accadere qualcosa che non ci auguriamo assolutamente però ecco magari a livello di a livello numerico forse manca manca ancora qualcosa dietro se verrà recuperato danilo 40 credo che insomma la squadra possa avere una la giusta solidità davanti penso che la squadra sia una delle squadre più forti con un reparto offensivo eh di di tutto rispetto soprattutto poi a gennaio quando eh rientrerà anche Francesco Forte credo che insomma eh attualmente non vedo squadre che possano ammazzare il campionato quindi l'Ascoli credo che reciterà comunque un un ruolo importante e non so se riuscirà a ad approdare a ritornare subito in Serie B credo che i playoff siano un obiettivo abbastanza eh raggiungibile anche perché in Serie C i playoff vanno veramente quasi metà delle squadre che partecipano quindi diciamo che non è un obiettivo impossibile per la Serie B è è complicato perché poi i playoff eh come saprete insomma comprendono tutte le squadre dei tre gironi quindi è è molto molto difficile poi essere promossi playoff vincere il campionato non è impossibile eh però servirà probabilmente una eh una maggiore cattiveria agonistica ecco calarsi di più nel campionato di eh di Serie C che è un campionato molto complicato molto difficile tutte le squadre lottano corrono eh a volte sono più calci che calcio però credo che comunque sarà un campionato dove l'Ascoli potrà potrà dire la sua ripeto non vedo squadroni che possano eh fare la lepre in questo campionato come è stato il Cesena per esempio lo scorso anno quindi l'importante sarà stare lì cercare comunque di essere sempre attenti protagonisti non commettere eh gli errori che abbiamo commesso in in queste prime quattro giornate soprattutto eh nella nella fase eh di 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 blocco e di diga eh lì in mezzo al campo perché eh adesso insomma le squadre ti conoscono sanno come ti muovi e certamente non 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 siamo siamo aspettati da tutti e come è successo in queste prime quattro gare perché insomma battere l'Ascoli è sempre un bel un bel risultato che fa morale quindi dovremo essere pronti ad affrontare l'avversario sempre con la giusta determinazione sì io credo che la rosa a disposizione di mister Carrera sia più che buona ehm ben assortita in difesa in difesa eh sono arrivati i vari curato menna eh è restato è tornato gagliolo a disposizione anche se al momento è infortunato ma auguriamoci che non duri eh duri il meno possibile questo infortunio eh io farei giocare anche 40 lo prenderei in considerazione perché secondo me è un ottimo difensore e in serie C può fare la differenza poi non so se sono state varie vicissitudini dicono che il ragazzo eh non voglia stare più all'Ascoli abbia rifiutato diverse offerte beh questo lo sanno solo loro praticamente però io lo terrei in considerazione davanti abbiamo siamo molto assortini in attacco abbiamo Corazza che è una garanzia per questa categoria oltre 100 gol eh abbiamo i vari Aschic abbiamo il ritorno di Marsura eh insomma siamo molto ben assortiti con Tremolata che io considero eh la ciliegina sulla torta di questo mercato perché Tremolata per la serie C è un lusso e deve solo migliorare la propria condizione fisica poi ci farà divertire eh credo che a centro campo sono arrivati Varone insomma anche Bertini due buoni giocatori ma secondo me siamo corti un altro elemento anche due ehm li avrei presi però vabbè la società ha deciso così vedremo se metteranno mano al portafoglio per cercare qualche svincolato eh poi tornando all'attacco ecco c'è un forte che ha visto ridotta la propria squalifica da nove a cinque mesi sarà disponibile da fine dicembre e se forte ehm potrebbe ehm prendere questa occasione con eh come un riscatto perché ha 31 anni e in serie C potrebbe essere decisivo per quanto riguarda l'obiettivo stazionale l'Ascoli credo che non abbia non abbia particolarmente eh problemi nel raggiungere i playoff adesso staranno eh i tifosi staranno facendo i soliti giusti debiti scongiuri però considerando i playoff li fanno dalla seconda alla decima io credo che questa squadra si inizia a carburare con i giocatori a disposizione può arrivare ben oltre il decimo posto dal decimo posto in su quindi sicuramente per quanto riguarda la promozione diretta non saprei al momento ti direi di no perché la nostra è una squadra completamente nuova perché a centrocampo come ti dicevo poco anzi siamo corti e quindi ecco da promozioni diretta non credo però i playoff penso che non ci siano proprio nessun tipo di problema alla luce delle prime quattro gare di campionato penso che la rosa di Misa e Carrera sia incompleta soprattutto a centrocampo che a mio avviso è il reparto un po' nevralgico di ogni squadra sono arrivati diversi giocatori di categoria come Tremolada, Corazza, Varoni, Livieri, Marsura comunque potranno dotare i più giovani e i meno esperti a crescere secondo me Lascoli può puntare sicuramente bluff da quello che ho visto finora sinceramente non conosco le altre squadre quindi non so dire se il picchio può ambire a qualcosa di più siamo partiti in ritardo rispetto a altre squadre per le note vicende societari la squadra sarà fatta in pochi giorni, siamo allenati in pochi all'inizio una squadra incompleta quindi ci vorrà del tempo sono sicuro che ci sono dei ampi immagini crescita proprio per vincere un campionato ti parlo da dirigione sportiva una piccola società penso che ci voglia coesione tra tutte le componenti quindi tifoseria, società, squadra, gruppo, magazzini, tutto quanto quindi ci deve essere un po' un'unione di intenti cosa attualmente per diversi motivi purtroppo non ci può essere chiaramente parlerà sempre il campo poi se Lascoli sarà su sono sicuro che spero che col mercato invernale la società possa rafforzare facendo qualche sforzo per colmare eventuali lacune sempre forza Lascoli Considerando che siamo partiti in ritardo nella preparazione e nella costruzione di una squadra direi che la rosa è abbastanza soddisfacente manca qualcosa sicuramente a centro campo questo si sa l'armonia tra i giovanissimi e i veterani deve ancora sbocciare per quello che abbiamo visto in queste ultime quattro partite prime quattro partite poi io pretendo che comunque chiunque indossi questa maglia sappia che cosa ha addosso quello che rappresenta non è una squadra qualsiasi questo è sicuro mi aspetto molto dai giovani che insomma per il momento non mi hanno molto convinto manca qualcosa a centro campo sicuramente per quanto riguarda promozione diretta o playoff non mi esprimo in quanto è troppo coccente ancora la delusione dell'anno scorso dove siamo retrocessi per un punto in un campionato dei più mediocri insomma visti negli ultimi anni per cui non mi sento di farmi prendere degli entusiasmi e vivo insomma la giornata speriamo che il tempo ci dia soddisfazioni che sono quelle che meritiamo insomma la puntata di Passione Calcio si chiude qui se vi è piaciuta mettete un like se non vi è piaciuta mettete un like e se pensate di poter che questo programma prosegua anche per questa stagione mettete un like Sparpice no game ha presentato il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi